che ho un grafico, uno schema grafico di dove sono i problemi, ok, il dentista ti creava una cartella poi che ti monitora negli anni, sui tuoi denti, chi ha solo impianti dentali questa roba non la fa, ma i pazienti che hanno una piorrea in stadio avanzato, che molti denti vengono mantenuti, quelli ogni 6 mesi, 4 mesi, conviene andare con una sonda a vedere che non ci siano degli scollamenti delle gengive, per quale motivo? Perché dentro alle tasche poi si selezionano i batteri che non hanno bisogno di ossigeno, che sono quelli cattivi che creano poi i danni.